Sirina, sono qui, eccovi qua, salve, allora ha sistemato tutte le fatture perché bisogna fare le altre, perché mi hanno chiamato, bisogna fare le altre, la porta del suo garage è aperta spero abbia visto la mia Ferrari Superlux, no, ho visto solo un vecchio Maggiolino con due gomme Maggiolino con due gomme a te